e bello a tutti ragazzi sono il cilberaga sono qui oggi tornato visto che ho deciso che d'ora in avanti tutti i martedì farò uscire un video visto che ho visto che mi piacciono e ho visto che soprattutto piace a me registrarli vi mostro la mia le le mie creazioni per quanto riguarda il paint job quindi il negozio verniciature di black ops questa è la mia mimetica speciale per black ops 4 purtroppo il logo è leggermente coperto se gli mettete il grosso calibro come vedete leggermente coperto però si vede comunque tranquillamente in gioco non si nota nemmeno io adesso l'equipaggio un po random ricordo come sempre che nel caso in cui il video arrivi a 50 likes io vi mostrerò come come creo le mie mimetiche visto che tantissimi di voi probabilmente probabilmente tantissimi di voi interesserà il come vengono create queste mimetiche facciamo così mettiamo un obiettivo così se li raggiungiamo io almeno lo stimolo per registrare il video perché mi prende tempo sia registrarlo sia editarlo sia caricarlo quindi se vedo che c'è supporto lo faccio ben ben volentieri quindi nel caso in cui voleste il video semplicemente dovete schiacciare like condividere ai vostri amici e chiedere a di mettere like anche allora niente riga la mimetica come potete vedere questa qua me la faccio vedere in partita andiamo a farci un bel mosfet caos mercenario mettiamo un po di cose random la mimetica l'ho provato a fare sul rampart visto che il primo episodio l'ho registrato col maddox se volete persi probabilmente ovvero lascio qua in alto o lo trovate tranquillamente la settimana scorsa c'è la miniatura in cui lo mostra è una mimetica molto molto carina mimetica bianca blu e con le ombre nere veramente veramente carina se volete persi andate a vedere perché secondo me merita veramente tanto e poi soprattutto mancano veramente pochi like per per arrivare 50 così poi vi mostro come l'ho fatta allora rega ora me la mostro in game in game così veramente veramente carina anche perché sfumato il logo del black ops 4 andiamo più alla luce la faccio vedere meglio veramente veramente carina fatemi sapere se a voi piace a me piace veramente tanto ora vi gioco qualche partita in modo tale che voi potete vedere come risulta poi all'interno del game mentre giocate perché è tutt'altro fooling quello lì non piaceva morire eh voleva dai figa ste granate comunque io non so morirò almeno due o tre volte a partita per ste granate cosa voleva fare quello comunque anche noto che anche mentre giochiamo è veramente carina questa mimetica qua fatemi sapere la vostra ma direi che ho provato a chiedere anche qualche mio amico per vedere se se magari io fossi di parte magari loro non piaceva roba del genere ma ho notato grande supporto anche da parte loro devo passare un attimo il vomito le cuffie perché ce l'ha veramente alti abbiamo distrutto il loro segnale tattico vabbè io non so magari sono io che non lo so usare rampart ma trovo che smiri veramente veramente un botto nooo so per morire ok raga mi salvo io tranquilli ci pensa argilbune guavettino bello pulito oh no questo qua c'è del tempest no c'ho tutti dietro c'ho tutti dietro ecco lo sapevo ok l'elstorm come sono morto raga solo perché solo perché il rampart smira un botto trovo cioè non so non so perché ma trovo che ha la stessa smirata dell'ICR solo che l'ICR poi ha una seconda impugnatura che gli permette di diminuire il barcollamento dell'arma allora diventa poi un'arma fortissima il rampart gli manca secondo me un'impugnatura un'impugnatura secondaria che lo renda forte perché come vedete quando se io sparo dritto basta un minimo movimento e la mira si sballa diventa abbastanza ingiocabile trovo poi magari oh sono io eh io non ci sto capendo niente raga c'era un casino troppo troppo elevato l'unico problema come sempre come ogni negozio di verniciatura è che purtroppo non si vede su tutta l'arma uh qua mi è andata abbastanza bene uh qua tiro l'elstorm e faccio un bel po' di kill vediamo un po' uh ah peccato che finisca la partita ero una dalle una dall'elicottero però purtroppo ero uscita da etmatch uh 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 io l'elicottero l'ho preso frate dai me l'aveva tirato anche il mio compagno lol comunque raga ditemi quello che volete ma sta mimeticozza è bella pulita bella pulita ora per curiosità voglio provare a metterla magari con con lo sfondo bianco ma ho ho l'impressione che diventi veramente brutta però la provo visto che non ho ancora io non ho ancora proprio vista come diventa però vediamo lo scopriamo insieme anche perché sono veramente curioso di come sia bianca in sottofondo oh mio dio regà ho provato a metterla rossa e viene veramente veramente fico secondo me ma c'è nel senso adesso voglio vederla in partita oh per fortuna è iniziata così stegliamo direttamente il problema anche se questo domino è iniziata vuol dire che ci stanno bello sponchillando rossa secondo me è fica raga secondo me è bella bella pulita rossa forse poi dovrei mettere un po' di ombre ai puntini di fianco ma un po' di ombrettine nere da farle risaltare ma poi secondo me diventa raga belle pulite rimangono belle pulite vediamo un po' forse vediamo un po' puttana oh poco poco forte sta rium forza magica a magica rium si forse allora vediamo un po' forse servirebbero un po' di ombrettine nere e poi forse è troppo troppo differente dal colore in sé dell'arma però secondo me con qualche aggiustamento diventa figa tra l'altro credo fosse iniziata invece il cazzo che è iniziata a magica rium oh raga io ste granate penso di odiarle più di ogni cosa tutte le volte ci finisco dentro come se ci avessi una calamita per per quelle quelle granatine nere io non so raga io il rampart l'ho usato solo per mostrarvi la mimetica ma non mi piace veramente niente perché smiratro troppo trovo poi non so magari sarà la mia opinione fatemelo sapere qua sotto nei commenti ma trovo che smiri troppo per essere un R cioè un fucile d'assalto non può smirare così tanto oh qua l'ho baitato e poi ucciso sono contento della mia place io non capisco come mai ora le coperture non coprono la testa cioè se mi metto dietro una copertura è perché proprio voglio essere coperto quest'anno su Black Ops 4 le hanno fatte leggermente più basse delle della persona accovacciata e quindi sono belle belle inutili oh mio dio quanto casino c'è pazzesco io ragazzi queste granate ci muoio sempre 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 ve l'ho detto io due o tre volte a partita ci muoio per queste granate bravi abbassa questo coso figo io non so se ho di più lo scudo quello che ti frigge o lo spinato o ci sono di cagata in sto gioco eeeh che cazzo volevi fare tu e la tua armettina di merda eeeh io l'attivo in faccia io l'attivo grazie amico minchia il mio amico quanto mi ha salvato leo grazie gimp mi interaglio spero che questo video e questa mimetica vi siano piaciuti lasciate un bel like un commento niente raga ci picchiamo direttamente però io raga starma qua non la so usare appena salto figa la mira va non so scemo